Nella giornata di ieri sono stati due gli incidenti registrati sulla costa terramana in cui sono stati coinvolti monopattini, un mezzo che con il passare del tempo sta creando preoccupazione, visto l'impennata di casi in particolare nell'ultimo periodo. L'ondata di caldo e la crescita esponenziale delle presenze nelle località di mare hanno fatto registrare nel fine settimana situazioni di pericolo che hanno interessato questi mezzi alternativi di trasporto sempre più diffusi. Una vicenda su cui il sindaco costiero di Roseto degli Abruzzi, Mario Nugnes, lancia un appello per il rispetto delle regole. Sulla mobilità sostenibile abbiamo investito e continueremo a investire, lo diciamo nella fase iniziale di questo percorso che però mobilità sostenibile sì ma anche nel rispetto di quelle che sono delle norme fondamentali e in accordo col comando di polizia locale, con il comandante Crippo abbiamo dato mandato già in queste prime settimane di aumentare, seppur con un numero insufficiente di agenti sul territorio, i controlli per la sicurezza dei cittadini ma anche per la sicurezza stradale perché come abbiamo visto questi incidenti possono rilevarsi davvero pericolosi in qualche modo a volte anche tragici quindi bisogna essere molto attenti. Ci sono delle norme che vanno rispettate questo è l'invito che faccio come sindaco e insieme a tanti altri sindaci con i quali ci sentiamo quotidianamente perché non possiamo dire che siccome non si rispetta la norma questo tipo di mobilità non sia in qualche modo importante, è fondamentale e il futuro ma va fatto nel rispetto delle norme quindi l'invito forte è quello al rispetto delle leggi, l'invito da fatto dal mio comandante e penso da tutti i comandanti della costa Terramano è quello di aumentare i controlli in tal senso. E proprio sulla questione controlli è intervenuto il comandante della polizia municipale di Roseto, Ernesto Crippo. Siamo i principali responsabili di questa deregulation sul monopattine da quando questi monopattini sono andati su strada tutte le polizie locali per permettere di dire hanno una loro responsabilità perché giro una domanda ai cittadini, a chi ascolta anche questo servizio, avete mai visto qualcuno sul monopattino con il casco? Avete mai visto qualcuno sul monopattino con un giubbotto retrofrettente all'imbrunire? Sono regole esistenti dal giorno in cui i monopattini sono andati su strada ma controlli da parte delle polizie locali sono pressoché inesistenti. I pattugli di polizie locali che fermano i conducenti monopattini che vanno in due o in tre che vanno senza casco non accadono mai e queste situazioni poi generano una situazione per la quale tutti i cittadini e gli utenti dei monopattini sono convinti di poter fare quello che vogliono confidando nell'impunità. E poi la cosa anche che preoccupa è che spesso sono i ragazzini i maggiori fruitori di questo servizio. Certo ma infatti basterebbe fermare i conducenti monopattini, chiedere loro la carta identità, vedere se hanno meno di 18 anni e procedere con le sanzioni. Se non si fa questa attività di bloccare, di fermare, di identificare chi guida il monopattino tutto questo accade.